E' stato un pomeriggio di festa in via Romana sabato 26 agosto per l'inaugurazione del nuovo centro di aggregazione sociale San Marco la Sella. Un percorso lungo iniziato nel 2005, quella delibera della circoscrizione Saione e concluso nel 2017. Questo centro è nato sotto l'amministrazione del sindaco Fanfani e è proseguito con il sindaco Ghinelli, quindi dobbiamo ringraziare tutte e due queste amministrazioni che si sono date da fare. Con i vari problemini nel percorso siamo arrivati dopo cinque anni a concludere questo bello locale. Per il rione di San Marco è una cosa molto positiva perché ci permette di fare attività sia sportive che culturali e quindi dobbiamo darci da fare anche per il proseguo negli anni. Rappresentano un punto, lo dice la parola di aggregazione sociale, ma al di là della parola sono il punto in cui i cittadini si incontrano, espongono i loro problemi, si divertono. Quello che un po' era una volta per certi versi il compito delle circoscrizioni che non ci sono più. Quindi i centri di aggregazione sociale hanno un ruolo sociale molto importante. Già installato nella struttura un defibrillatore donato da Estra. Ci permette oltretutto di aver messo questo defibrillatore a disposizione non solo dei soci ma di tutta la comunità. Infatti abbiamo messo anche dei cartelli lungo la strada che indicano che qui c'è un defibrillatore e quindi eventualmente li possono usufruire tutte le persone.